Che attività fisica si può fare e si deve fare con il mal di schiena? Molte persone mi scrivono facendomi questa domanda e se dovessi dargli una risposta pronti via, sincera, questo sarebbe boh. E la verità è proprio questa, nel senso non c'è una sola risposta, non c'è una risposta univoca, devi fare questo se hai mal di schiena o non puoi fare questo se hai mal di schiena. Ognuno è una realtà a sé. Molti miti su mal di schiena e attività fisica sono stati ampiamente smontati delle ricerche scientifiche, ma se ne sente molto ancora parlare. Uno su tutti il nuoto, che si è visto che non è più benefico di altre attività, e anche la corsa, che generalmente è un'attività sconsigliata, ma una ricerca scientifica recente ha messo in evidenza che i dischi dei corridori sono addirittura più robusti rispetto alle persone che non corrono. E poi devi tenere presente una cosa, la maggior parte delle persone che dà consigli su che attività fisica puoi fare, quindi ho gli ortopedici, ho anche i miei colleghi fisioterapisti, molte volte sono persone che non fanno attività fisica, quindi non ne conoscono bene le dinamiche. Molto spesso si danno consigli generici, quindi quando qualcuno, prima regola, quando qualcuno ti dà un consiglio, assicurati che sia una persona che in quell'ambito ci capisce, ci ha lavorato o magari pratica quel tipo di attività. Le questioni possono essere due. Faccio attività fisica solo e soltanto per curare il mio mal di schiena, oppure voglio fare attività fisica perché voglio fare attività fisica, mi piace e devo fare qualcosa che sia compatibile con il mio mal di schiena. Nel primo caso, allora, la cosa che funziona di più è sicuramente l'esercizio specifico, quindi fare allungamenti o comunque esercizi specifici per il mal di schiena e abbinarli ad un'attività generica che magari ti mette in movimento un po' tutto, come magari la camminata o anche il nuoto, in questo caso come mobilizzazione generale può andare bene, ma se stai facendo attività per curare il tuo mal di schiena è quella che deve essere specifica, quindi esercizio specifico. Nel secondo caso, quindi, che tu voglia fare attività fisica, non si tratta di scegliere attività fisica compatibile con il tuo mal di schiena, almeno non in prima battuta. Se facendo una determinata attività fisica, come può essere, che ne so, la palestra, vado in palestra, mi viene mal di schiena, vuol dire che quella sollecitazione è eccessiva per la mia schiena, ma la soluzione non è evito la sollecitazione, la soluzione è metto la schiena in condizione di poterla sopportare, perché la maggior parte delle persone lo fa, perché non devo riuscirci io? Quindi la filosofia che ti devi guidare non è quale attività fisica scelgo, ma la mia schiena ce la fa a reggere questo tipo di attività fisica? Se non ce la fa, posso metterla in condizione di farlo? Nella maggior parte dei casi la risposta è sì, a parte rari casi di grossi problemi alla gloria vertebrale, però insomma, parliamo un po' per la maggior parte delle persone. Uno dei problemi che maggiormente condiziona l'attività fisica, quindi che fa venire mal di schiena durante l'attività fisica, è semplicemente se abbiamo muscoli troppo rigidi. Per esempio i muscoli posteriori della coscia è frequente che negli uomini siano troppo rigidi. Puoi fare un test, ti metti sdraiato, sollevi la gamba, se non arrivi agevolmente a 90 gradi senza sollevare l'altra, vuol dire che hai muscoli posteriori della coscia molto rigidi. Questi si attaccano al bacino, possono avere una influenza su come vai a fare i movimenti durante l'attività fisica. Per quanto riguarda la muscolatura anteriore, puoi metterti in ginocchio, sui talloni e provare piano piano a scendere, tenendo le ginocchia unite a scendere in questa posizione. Se non puoi neanche sognarti questa posizione, se devi alzare le ginocchia, se questa posizione ti comunica soltanto schiena che si rompe, vuol dire che hai la muscolatura anteriore, troppo rigida e retratta, e anche quello può essere un qualche cosa che quando vai a fare attività fisica, attività sportiva, ha un impatto. Quindi la sostanza è, cerca di mettere la tua schiena nelle condizioni ideali per poter fare attività fisica quella che vuoi. E solo se proprio dopo che ci hai provato non ci riesci, cambia tipo di attività. Non posso qui illustrare tutti gli esercizi che si possono, si devono fare tutti i test per capire cosa sia meglio fare in termini di riabilitazione. Ti rimando ad un mio articolo sull'altrariabilitazione.it, sull'argomento comunque sto anche scrivendo e filmando una guida, quindi ci sarà anche del materiale completo. Per qualsiasi cosa vai sull'altrariabilitazione.it e contattami da lì. Ciao e alla prossima!